amici interconnessi all'ascolto ciao da alberto fiano ecco l'immancabile appuntamento con le istantanee della serie a 2015 2016 giornata 6 romacarpi eccessivo ossia il dazio che deve bagare la roma per tornare a vincere e convincere visto i serie infortuni ai tre uomini cardine ossia totti keita e soprattutto il nuovo bomber ed in geco napoli juventus tabù esorcizzato riferito ad iguain che finalmente mette a segno il suo primo gol alla juventus e come ciliegina sulla torta di una straordinaria prestazione in questa meritata e bella vittoria dei partiti europei sui bianconeri di allegri genoma milan immortalare la faccia di cagliani a fine partita dieci secondi dopo la clamorosa occasione da gol fallita dai rossonieri per pareggiare il gol di zemaili in pieno recupero bologna udinese micidiale l'1-2 con cui i friulani negli ultimi 20 minuti di gioco ribaltano lo svantaggio iniziale conquistando una vittoria importante dopo tre sconfitte consecutive sassuolo chievo logico il pareggio finale finale tra queste due belle squadre in una partita dove rende un assoluto equilibrio tattico torino palermo davvero stupendo il gol del addoppio del toro stiglato da benassi che ricorda lontanamente l'euro gol firmato da marco ambassen nella finale nella finale degli europei nel 1988 verona lazio fondamentale il ritorno di biglia centrocampo per a lazio che come d'incanto torna ad essere per lunghi tratti della della gara quella bella squadra ammirata lo scorso anno cogliendo tre punti ottimi per le sue aspirazioni di alta classifica inter fiorentina autentica ossia la lezione di calcio che impartisce paolo sosa mancini in questa netta e schiacciante vittoria in trasferta di una grandissima fiorentina contro i nerazzurri con conseguente aggancio al primo posto in classifica frosinone empoli storica la data del 28 settembre 2015 che stancisce la prima vittoria in assoluto dei ciociari nel massimo campionato di calcio di serie a atalanta sampdoria legge di compensazione riferito all'autogol di monsaider difensore blu cerchiato decisivo per la sconfitta della sampa in fotocopia all'autorete con cui il centrale difensivo della roma costas manolas mercoledì scorso aveva regalato i tre punti agli uomini di zenga anche per quest'oggi abbiamo chiuso per quanto concerne le istantanee della serie a facciamo una breve parentesi sui pronostici per quanto riguarda le partite di champions league riguardo ovviamente la roma e consiglio una somma gol 2 3 sul risultato finale con probabili risultati esatti 0 2 1 1 e 1 2 per la roma attenzione alle rete di alle gol ai gol di pianici e di mohammed sala vi ringrazio vi ricordo sempre gli appuntamenti da seguirci con il tribunale on air la web radio del mio amico guglielmo timpano dove c'è anche il sottoscritto e fra i mani da sotto e tanti interventi con giornalisti e ex calciatori di roma e lazio che sta per tornare in onda il lunedì e il venerdì mattina vi ricordo il venerdì pomeriggio l'immancabile appuntamento con il mitico roberto dei angelis e stefano tini su rda radio e step radio a questa è la roma vi ricordo anche di seguire sempre i pronostici delle coppe europee del weekend di campionati nazionali ed internazionali su www.pronosticonline.com la oddi pronostico si elide con la oddi online così per tentare di vincere sempre bei soldini vi ricordo anche l'appuntamento ormai proprio assolutamente immancabile e imperdibile del venerdì sera su rete oro canale 18 del digitale terrestre con la trasmissione sportiva regionale più seguita dai dati audience come confermano loro stessi ossia il tribunale delle romane in onda ogni venerdì sera su rete oro appunto dalle ore 21 e 30 in diretta fino alle ore 24 e mando anche un saluto alla mia carissima amica nonché dottoressa in logopodia edizione e anche cantante e attrice teatrale la bravissima simpaticissima analisa peruzzi quindi mi raccomando seguiteci sempre perché stiamo sempre in grande lavoro per voi con tanta carne al fuoco e soprattutto tante tante novità per rendervi sempre più contenti e soddisfatti di seguirci ciao